Stavre dato, ne abbiamo dato comunque il massimo, siamo contenti, abbiamo giocato per divertirci e siamo veramente contenti di quello che abbiamo fatto, abbiamo ovviamente sbagliato tanto, però si sta. È un utile test comunque in centro dei play-out. Sì, per noi c'è un allenamento per salvarci a play-out e quindi noi cerchiamo comunque di fare il meglio, di trovare cose nuove per il play-out.